Sono 25 giri da percorrere di questi 5.000 metri a punti la finale delle allievi, la prima campana sarà a meno 23, la prima segnazione punti in giù a meno 22, via via dei giri pari. Allievi maschi alla gazebo appello atleti, campana di meno 23, prossimo giro, prima segnazione punti in giù. Sì, vedete che non recupera proprio niente, c'era la gente che è stata, non è che è stata, non è che è stata. Anche io. E' una pausa. E' una pausa. Ho recuperato, ho recuperato, ho recuperato, ho recuperato. 186, 2 punti, 21, un punto. 2-5-1-2 punti 133-1 punto! Passaggio di meno 19! E le vai su e vai! 133-2 punti 41-1 punto! dai Emma fai Emma stavano italiane e le vanno a fare qui vieni 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 e superate in 3 mark assegnate il puntezzo 2-5-1, due punti, 133, un punto siamo a meno 15 2-6-2-1, due punti, 162, un punto guarda la mia squadra, c'è l'Anna, l'Emma e la Malta sai che sono lì? siamo a meno 13 per la testa 1-7-6, due punti, 21, un punto ah, l'Emma vino 11 al passaggio 21-2 punti vai, l'Emma 176, un punto vino 9 vino 9 dai, l'Emma via, l'Emma via, l'Emma via, l'Emma via, l'Emma 133, due punti, 21, un punto occhio fuori via, l'Emma vai, l'Emma siamo al passaggio di meno 7 2-5-2 punti, 41, un punto 2-5-2 punti, 41, un punto 2-5-2 punti, 41, un punto via, l'Emma via, l'Emma bravo traguardo di meno 5 5-2 punti, 23, 3, 4, 6 un punto uno 2-5-1-2 punti, 41-1 punto. 2-5-1-2 punti, 4-3-0-6 punti. 2-5-1-2 punti, 4-3-0-6, 1 punto. Chi fa vincere? Chi fa vincere? Chi fa vincere? Chi fa vincere? 4, 7, 6, 2 punti, 2 G Chi fa vincere?